Il primo ottobre Nanni Moretti è stato colpito da un infarto il giorno prima della presentazione del film Vittoria da lui, prodotto prevista per il 2 ottobre al Cinema Vittoria di Napoli. Nonostante il ricovero in ospedale, il regista ha inviato un videomessaggio per scusarsi della sua assenza e rassicurare i presenti. Sto bene e tornerò presto. Il film Vittoria, diretto da Alessandro Cassigoli e Casey Kuffman, è prodotto dalla Sacker Film di Moretti, racconta la storia di Jasmine, una donna che dopo la morte del padre inizia un percorso di riflessione e desidera adottare una bambina. La decisione mette in crisi il suo matrimonio e la stabilità familiare, ma lei prosegue con determinazione. Il film esplora le dinamiche familiari e i desideri profondi dell'animo umano, ispirandosi a una storia vera interpretata dai protagonisti reali. Grazie a tutti.